Riapertura del Museo Nazionale di Matera nella giornata del 18 gennaio che si compone del Museo Ridola e del Museo d'Arte Medievale e Moderna di Palazzo Lanfranchi, una riapertura con delle novità soprattutto nel Museo Ridola. Abbiamo riaperto il portale quello storico del museo e abbiamo provato a fare un'accoglienza diversa dando degli spazi più ampi ai visitatori nell'attesa appunto di vedere poi le collezioni. Insieme al personale che è qui con i custodi abbiamo fatto un lavoro come dire per me greggio perché comunque insomma con la collaborazione degli interni siamo riusciti a ripristinare delle vetrine antiche che erano qui in deposito e le abbiamo allestite raccontando la storia del museo e chi sono stati i fondatori quindi da Ridola alla Baracco e anche i personaggi storici materani. Abbiamo dato uno spazio significativo anche a loro oltre a prendere dei volumi storici della nostra biblioteca che è qui a Ridola raccontando la memoria e la storia di Matera e del territorio. Per quanto riguarda Palazzo Lanfranchi invece le novità sono annunciate per questa primavera? Per quanto riguarda il Lanfranchi sicuramente la novità è che partirà a breve un cantiere di restauro dell'edificio ma anche all'interno con la rivisizione delle collezioni. La nuova biblioteca ci sarà che verrà rifunzionalizzata, ci sarà la parte multimediale dedicata al museo che al momento non si era investita in questa direzione e quindi ci sarà un bel cantiere che durerà con un bel cronoprogramma denso e corposo di attività a farsi. Riapertura sì ma permangono le misure immagino di sicurezza? Quale sicuramente sono un obbligo perché il museo deve essere comunque un luogo sicuro e le prescrizioni non vanno mai dimenticate, deve essere la nostra abitudine ormai indossare le mascherine, il distanziamento, disinfettare. Quindi è la base di partenza per far sentire sicuri sia il personale che ci lavora e sia chi verrà a visitarci.